Prendi a cuore la sicurezza! Sono arrivate le nuove puntate di Edilizia 1! L'unica trasmissione in Italia sulla sicurezza sul lavoro in edilizia. Tante informazioni utili per non farsi male sul lavoro e nel fai da te, sulle novità legislative e tecnologiche. Guarda gli orari di messa in onda e i tanti materiali informativi gratuiti sul nostro sito www.cpto.it E usare!